Anch'io vorrei fare una premessa in entrata dal punto di vista delle costruzioni evidente, devo darvi qualche aspetto. Naturalmente il polo sportivo non è una novità, è un progetto molto complesso e in questo caso abbiamo trovato un equilibrio veramente anche cesellato negli anni per unire diversi obiettivi, unire all'obiettivo primario dello sport anche tutta un'altra serie di temi che tocca l'amministrazione comunale. È evidente che non è facile da spiegare ma l'obiettivo primario di questo progetto è quello di dare uno sviluppo armonioso a un quartiere importante della città, il quartiere di Cornaredo. E qui con la prima slide vorrei illustrare le tempistiche che hanno questo genere di progetti. Qualsiasi progetto che seguiamo come di Castero Immobili ha spesso degli iter piuttosto complessi e lunghi, anche tortuosi, anche su oggetti piccoli e anche in questo caso abbiamo fatto molti passi per arrivare fin qui e quindi quando si dice si può ricominciare in poco tempo beh insomma basta leggere qui e vedere che arriviamo a giungere ora all'inizio della realizzazione dopo un iter lungo, dopo tre concorsi pubblici che hanno rispettato la legge sulle commesse pubbliche. E vorrei magari porre l'accento sul primo del quale non si parla più molto che è quello del 2004 che è un concorso internazionale di urbanistica che era stato lanciato da un primo gremio intercomunale di Cornaredo, la cosiddetta agenzia di Cornaredo nella quale siedo dal 2014 ed è stato tra l'altro un progetto che allora era stato segnalato come progetto pilota virtuoso anche dall'ufficio federale della pianificazione di Berna, l'ufficio ARE. E negli anni si sono sviluppati nei diversi comparti poi ulteriori progetti e la città ha proseguito nel suo comparto con appunto il progetto del polo sportivo facendo poi un concorso d'architettura e poi in seguito un concorso per investitore come ha ben spiegato il sindaco proprio perché questo progetto era nato sin dall'inizio non per essere solo un progetto legato allo sport ma per essere lo sviluppo completo di un quartiere armonioso con equilibrio fra edifici e spazi pubblici e con una maggiore fruibilità per la popolazione e che ricordo attorno a questo comparto è numerosa. I quartieri di Molino Nuovo, Pregassona, Viganello sono praticamente quasi la metà della popolazione della città e quindi è bene ricordarlo quando noi seguiamo tanti progetti edili diamo molta attenzione a tutti i quartieri si parla sempre spesso anche di quelli periferici ma è bene anche pensare ai quartieri più importanti quelli della parte urbana della città c'è molta attenzione per il centro ma bisogna dare anche la giusta attenzione alla zona più popolosa e più popolare della città quindi la zona che sta vicino a Cornarido. Poi naturalmente è un progetto che non è perfetto come nessuno dei progetti che abbiamo sul nostro tavolo ma è perfettibile, il Consiglio di Comunale ha fatto un lavoro estremamente approfondito ho risfogliato ancora il classer questa mattina per vedere quante informazioni abbiamo dato sui costi, sulle tempistiche, su tutto quello che è stato fatto ed è pronto per partire con sette punti che sono stati aggiunti dal Consiglio Comunale importanti per migliorare la sostenibilità di questo progetto e migliorare anche il partenariato pubblico e privato che è stato concertato con questo concorso per investitore e dai primi incontri fatti appunto con i diversi partner su questi sette punti c'è una volontà congiunta sia da parte del municipio sia da parte degli investitori di poter entrare nel merito e rispondere in modo adeguato a questi sette punti. La prossima slide magari vediamo cosa c'è Sì, ecco, questo è quello che dicevo in precedenza è la volontà della città di creare un unico progetto dal punto di vista urbanistico e progettuale e questo iter è stato un iter molto lungo che ha anche necessitato molto lavoro quando il collega dice abbiamo già speso tot franchi ecco, è bene anche pensare quanto lavoro c'è dietro questi soldi che sono già stati investiti e quanto lavoro è stato fatto da moltissime persone in modo molto trasversale nell'amministrazione qui vorrei anche ringraziare tutto lo staff non solo del di Castello Immobili ma di tutta l'amministrazione che sta lavorando congiuntamente e ringraziare anche numerosi e numerosi progettisti che stanno dietro a questo enorme, enorme lavoro ecco, questo è un po' per dire che non si riesce a fare un progetto complesso in pochi mesi già solo per tutte le discussioni che dobbiamo fare con tanti enti fra li quali anche il cantone una terza slide abbiamo fatto un equilibrio abbastanza complesso di diversi contenuti ma alla fine questo è un progetto con un interesse prevalentemente pubblico a favore della popolazione a favore dello sport ma anche a favore di altri bisogni della popolazione bisogni di spazi aperti fruibili anche bisogni di avere un'amministrazione efficiente e appunto è al passo coi tempi e qui anche per questo motivo che la città dopo l'amministrazione ha fatto un'analisi della propria situazione a livello logistico lavoro che si imponeva naturalmente dopo le aggregazioni ci troviamo ancora oggi dopo molti anni dalle aggregazioni ad avere un'amministrazione spezzettata su 14 edifici differenti con difficoltà anche per la popolazione lo stato civile da una parte controllo abitanti dall'altra l'ufficio tecnico dall'altra il servizio giuridico ancora in un altro luogo e questo non è efficiente abbiamo avuto anche un grande aumento di bisogni e quindi aumento anche di collaboratori per affrontare in modo efficace tutte le tematiche che sono sui tavoli dell'amministrazione e oggi abbiamo una situazione assolutamente insoddisfacente dal punto di vista logistico con il nostro personale e quindi anche per questo motivo che abbiamo concatenato questo aspetto dell'accentramento di gran parte dell'amministrazione a Cornaredo perché appunto vogliamo dare più efficienza alla popolazione e darla in un luogo facilmente raggiungibile e con un'adeguata qualità anche negli spazi di lavoro aggiungo che Palazzo Civico resterà comunque sempre il cuore della nostra amministrazione la casa del municipio e della cancelleria comunale dei principali servizi della città resteranno sempre qui ma con l'accorpamento dell'amministrazione a Cornaredo potremo trasferire i cento collaboratori che oggi sono in via della posta e dare avvio anche a un ulteriore aspetto che dobbiamo affrontare come città quello della strategia dell'alloggio e quello del riportare abitazione in centro non è una novità e Spa Suisse ha fatto uno studio e ha detto che bisogna tornare ad abitare di più nella parte centrale della città e noi come municipio desideriamo attivare concretamente un progetto di questo tipo favorendo anche alloggio per ceto medio e diciamo per persone con pigione che hanno bisogno di pigione più moderata e questo è già un impegno che il municipio ha preso con il consiglio comunale e abbiamo già anche svolto uno studio di fattibilità che ci dimostra che si potranno creare una sessantina di appartamenti e delle abitazioni per all'incirca 150-160 persone questo è per l'amministrazione un ulteriore aspetto fondamentale oltre alla politica dell'alloggio forse vorrei anche aggiungere che oltre alla grande componente di contenuti pubblici naturalmente resta uno spazio di ulteriori possibili contenuti negli spazi che verranno realizzati a Cornaredo che sono interessanti per diversi destinatari non solo per la residenza ma soprattutto anche altri enti altre imprese sociali che hanno iniziato già ora a manifestarsi per portare delle loro attività a Cornaredo non dobbiamo dimenticare che lo stadio si situa in faccia al centro svizzero di Calcolo che è un'eccellenza a livello di città abbiamo l'università a meno di 500 metri abbiamo l'ospedale più grande del canton Ticino anche a meno di 500 metri e quindi già ora abbiamo non solo delle richieste dal punto di vista della residenza ma soprattutto anche delle richieste di contenuti di promovimento economico di attività anche sociali di enti che spontaneamente iniziano a manifestarsi e questo l'abbiamo già discusso con l'investitore che è volentieri a disposizione anche per collaborare con noi per trovare uno sviluppo adeguato non solo sulla parte che sarà prettamente di destinazione pubblica ma anche per quelle parti che sono più di aspettanza dell'investitore da ultimo vorrei segnalare alcuni aspetti sulla sostenibilità nel contratto è stato inserito un obbligo di esemplarità sociale e di sostenibilità ambientale è chiaro espresso in modo generico ma dal punto di vista concreto sono stati già attivati delle collaborazioni e delle possibili diciamo attività dei programmi ad esempio legati all'inserimento di persone disoccupate la divisione della formazione professionale del cantone si è dimostrata interessata ad avviare con noi un programma di collocamento di apprendisti su questo grande cantiere non solo sul cantiere ma poi anche nella fase successiva nella gestione di questo di questo grande grande polo e naturalmente poi avremo moltissime anche moltissime disposizioni che sono già formalizzate nel contratto in relazione alla sostenibilità ambientale lo standard minergì degli edifici il recupero di gran parte degli scavi direttamente sul posto per produrre materiali di costruzione gli impianti fotovoltaici non solo sui tetti ma sulle facciate in collaborazione con le AIL e stiamo anche discutendo ultimamente dei temi legati al recupero dei materiali provenienti dalle parti che devono essere demolite quindi abbiamo anche qui delle collaborazioni con SUPSI che è interessata a fare dei progetti pilota e quindi una volta che partirà questo progetto potremo dare anche molta innovazione in relazione al settore della costruzione io penso che sono a disposizione poi per le domande e penso che è molto interessante vedere il modello e vedere come gli edifici non sono così grandi rispetto al diciamo all'edificato già esistente della città grazie a tutti grazie a tutti